Amici buongiorno, stavo studiando ma mi è arrivato un pacchettino con tre cose proprio, vi faccio vedere subito Gli ho presi dalla selleria online ed erano proprio tre cose che mi servivano e basta Ho preso i paraglomi della Winner XL per ICA perché i suoi li ha già distrutti E li ho presi a novembre a Fiera Cavalli ma sono distrutti Li ho già fatti aggiustare con l'ago filo da mia mamma ma andavano ricomprati Poi ho preso il districante della Beredus con il suo struzzino Con cui mi sono trovata molto bene, era due stati fa, credo Però mi sono trovata molto molto bene nel senso che si reca la coda molto folta E quindi mi serve un districante di funzioni, non solo che faccia un po' di effetto E con questo mi trovo bene quindi anche se questo è un po' di più va bene L'ultima cosa sempre estiva è il Biorepel che è l'antimosche, sempre della Beredus Anche questo qua l'ho usato due anni fa perché me l'avevano mandato questo, quello e qualcos'altro che non mi ricordo Sempre con il suo spruzzino E niente Glielo metto principalmente sulle gambe perché sul corpo poi fa un macello Tipo sulla pancia e le gambe E basta queste tre cose che mi servivano diciamo prettamente adesso d'estate E basta Fatemi sapere se ci sono anche voi delle cose che comprate Degli acquisti stagiali ma che fate sempre d'estate Tipo lo shushin, cioè come si chiama, il lucidante, il districante Va a finire che lo compro sempre d'estate anche se lo uso tutto l'anno Però vabbè E paraglomi appunto mi servivano perché li ha spaccati E basta mi mando un bacio e torno a studiare per i miei esami Ciao Ciao